Grazie Matteo, ancora un applauso! Nolvoni, lucatoni, peperoni, Luca, sei per me, numero uno! Bella donna, mamma mia, alimenta, ciao, amo, Roma, Roma, ripoli, amore mio! Mozzarella, mortadella, Nutella, Luca, sei per me, numero uno! Stand by for action! One, two, three, four! Rego, faula, lucatoni, simulazioni, stehe wieder auf! Rego, lucatone, man, è un bei jubelante, campione, lucatoni! Rego, faula, minestrone, obermone, Luca, sei per me, numero uno! In Italia, in Drift, Germani, in Cosa, in Cosa, Luca, sei per me, numero uno! Bella donna, mamma mia, alimenta, ciao, amo, Roma, Roma, ripoli, amore mio! Amarendo, Dio, letto, benvenendo, Luca, sei per me, numero uno! Once again, three, four! Prego! Acqua minerale, grappa speziale, cozze vangole, prego! Fototipo me, pesci, carambolini, Luca, gattoni, grischi, milioni! Tortellini, cappuccini, con martini, Luca, sei per me, numero uno! Lugatoni, telefoni, per lusconi, chiama qui per te, numero uno! Bella donna, mamma mia, alimenta, ciao, amo, Roma, Roma, ripoli, amore mio! Spazzerare, si, ballare, calcio di mondiale, ma per me, numero uno! Welcome to the News of the Week! Colè, Romaco, non è venuto con il pescolo piccolo, no! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo, no! Eh, eh, ho spiaccine, no, che bello, no! Allora, che bello! Oh, benvenuto a me! Fototipo me, cucini, con martini, il figlio è per me, numero uno! Lugatoni, telefoni, per lusconi, chiama qui per te, numero uno! Bella donna, mamma mia, alimenta, ciao, amo, Roma, Roma, ripoli, amore mio! Spazzerare, si, ballare, calcio di mondiale, ma per te, numero uno! Numero uno! Numero uno! Game over! Un applauso! Velocissimi, velocissimi! Velocissimi, il microfono! Il prossimo anno fate il CD, qua tutte le volte è arrivato per una canzone nuova! Ma domanda volentieri! Allora, grazie, grazie, per i nuovi, veloci, veloci! Allora, io sono Ryutaki e sono Olly Atton! Uh, veloci, veloci! Grazie, Olly! Colnavario, Spencey! Grazie, Benji! Io sono Nero, io sono Mark Landers! Grazie, Mark! Io sono Balla e sono Warner! Grazie, Mark! Ok, grazie! Un applauso! Tre, due, uno! Uh! Sì, grazie! E ho scampato solo! Na 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 na! Dura uno! Ma che chiede che... Dove siamo? Siamo qua! Numero 16! Numero 16! Selle e Blish, in Sugaya! Garglero! 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 Un grosso applauso per Carlo, che ha solo 11 anni, ed è la prima volta a Mattova! Bravo! Grazie, Carlo! Grazie, Carlo! Grazie, Carlo! Grazie, Carlo! Un comico giapponese, dal programma Baka Fish! Il personaggio è Art Game, ma detto che si può dire... Taglier! Io sono qua, per lasciarvi un messaggio, per lasciarvi un messaggio, un messaggio importante. Tante persone fumano, scusate, non è bello. E, insomma, quando poi, se proprio vedete gente che l'accende, se mi esce, che l'accende, insomma, dopo fumano, mi raccomando, prendetegliele sempre e spegnetegliele. Grazie! 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 Grazie, sono stato un attirante. E poi, vittorio per i posti, lei non lancia un messaggio social. Grazie! Grazie! Allora... Belle gambe! Belle gambe! Mi dicono che hai delle bellissime gambe! La serie One Piece, abbiamo uno, tutti in versione afro. Belle gambe! Vai Andrea! Andrea cercava un personaggio a pezzo nudo. Per fare vedere il fisico! L'ha trovato, vai! Grazie! Grazie! E poi è il fisico! Dove siamo? Allora, noi c'è nove! Numero diciannove! Mark of the Warpins, abbiamo... No, dove l'ho perso? Rock Howard, Stefano! È il personaggio profeta! Grazie Stefano e un grazie alla mamma perché la giacca l'ho riuscita a lei! Grazie, Stefano! E USO! Oh! Grazie! Grazie Stefano! Grazie a tutti.